Dopo le scuse le trovo io quando mi dico il presentatore, non è per quello Riccardo adesso siamo a meno 16 e fra poco sentiremo la campana Bene, adesso a meno 16 e fra poco sentiremo la campana dal prossimo giro e eliminiamo una eliminazione ogni giro Allora, numero 122, grazie per fermarti, grazie numero 122, 1, 2, 2 Non c'è proprio un po' di ragione, di bellucci Non c'è proprio un po' di ragione, non c'è proprio un po' di ragione Non c'è proprio un po' di ragione, è grande? Ma c'è un po' di ragione, di troffiore che si chiudono E' un po' di ragione, una ragione, ma c'è anche un po' di ragione 2, 1, 7, fermarsi, grazie 2, 1, 7 2, 1, 7 Scusate, possiamo rinunciare alla sera? Sì Per favore, 2, 1, 7, fermati, grazie 2, 2, 8, 7 2, 8, 7, fermarsi, grazie 2, 8, 7 46 fermarsi grazie bella finale comunque 94 seconda munizione numero 94 numero 104 fermarsi per favore grazie scusate scusate 105 scusate 105 105 105 105 fermarsi grazie numero 82 prima munizione prima munizione numero 106 fermarsi grazie numero 106 numero 74 prima munizione numero 74 numero 74 prima munizione numero 74 2-6-1 fermarsi grazie 2-6-1 2-6-1 numero 54 fermarsi grazie numero 54 nero nero 10-1 premio 23 nemico 24 nero 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 1-6-1 nero 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 numero 2, 3, 3, per il passio del migliore, 2, 3, 3. numero 2, 6, 2, fermarsi, 2, 6, 2. Occhio! 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 Sì! Numero 94! Grazie! Numero 94! Non è arrivato a sé! Adesso magari è un barco! È sbagliato! È sbagliato! Un nuovo scatto! Numero 53! Numero 53! 5,3! 5,3! Asia! Numero 53! Per favore! Numero 53! Fermati! Perché se superi il traguardo... Vieni in scuola di pagare! 2,9,7! E' eliminata! Un applauso per qualcuno che sente che è cascata! Nonostante questa data! Buonissima! 2,0,8! 2,0,8! Fermati! Grazie! 2,0,8! Fermati! 2,0,8! 1,8! 3,0! 3,0,8! 2,0,8! 3,0,8! 3,0,8! 3,0,8! 3,0,8! 3,0,8! Grazie, grazie, numero 74, seconda munizione, numero 74, andiamo verso la fine, tutta, la porta a casa numero 7, Elemara del Castano, Chessinger, brava Ele. Grazie.